C'è Juarez in marcatura uomo sull'attaccante dell'Inter, duello per l'Inter era fondamentale cominciare bene, Gorgatos ha subito messo in discesa la partita per l'Inter. Zanetti subisce fallo, lo ha attaccato in modo irregolare, in verticale per Lucarelli, sponde a cercare Lima, ottimo il recupero di Zanetti. Buona salvezza. Zanetti. Tronnello attaccato da Zanetti. Zanetti. Palla con Iugovic, ancora con Ticchio, attaccato da Zanetti, l'argentino in croce a Ronaldo, palla per Zanetti, si allarga Moriero. Non aggredisce, non c'è per il momento pressing sui portatori di palla dell'Inter. Giangerelli prova a disturbare Zanetti. Contrasto Lucarelli-Zanetti, di forza l'argentino, recupera palla, trasforma l'azione da difensivo in offensivo, affonda Zanetti, zona tiro, Zanetti, rete! 2-0. Straordinaria accelerazione di Zanetti. E l'Inter è sul 2-0. Questa è la parte finale dell'azione. La conclusione di Zanetti si allunga Chimenti, ma anche qui non poteva farci nulla il portiere del Lecce. Il titolo della Roma sulla Lazio, tutto ciò scatena l'entusiasmo dei sostenitori dell'Inter. Zanetti al titolo. È chiaro che il 2-0 della Roma è una notizia positiva, non soltanto per l'Inter, ma anche per Juventus, Milan, per le altre squadre che hanno conticchio. Mentre nell'Inter, come noto, c'è un leccese puro sangue, Francesco Moriero, per lui 159 presenze, tra i B con il Lecce, una promozione, ma anche una retruccia da titolo. Si sta dissolvendo il fantasma della lacchina Cavasino. Zanetti. Il fatto, probabilmente anche del lavoro tattico che sta eseguendo Moriero, le sfuriate, le avanzate. Il pilota del pallone, la metà campo avversaria del francese, affida Zanetti. Lima, pallinaria, cercare la testa di Lucarelli, vince il duello all'Aerofresi. Zanetti, no capitano dell'Inter, in anticipo su traversa. Alimenta l'azione offensiva Zanetti, resta in attacco all'Inter, ancora un cross, Zanetti. Attaccato da Lima, ancora Zanetti. Zanetti, piccando, si è uscito dal treno di gioco con le proprie gambe, non ci sia stato bisogno dalla Barella. Deciso di ripagarlo, dandogli fiducia. Se è giocato, qualora non avesse recuperato dei problemi muscolari, Panucci. Zamorano, Zanetti. Riesce ad effettuare il traversone, scavalcato a Beruzzi, l'anticipo. Cambie non colpisce bene, però, il centrocampista del Lecce. Sono avuto difficoltà a bloccare. Inter è in possesso di palla con Zanetti. chiamato in causa Panucci, Zanetti. Piangerelli su di Luca. Lo ferma Coi. Zanetti. Di Biagio. Zanetti. È difficile attaccare in contropiede con il solo regolamento.